Direttore, oggi l'Università dell'Istituto di Salerno accoglie l'Espresso, c'è una lunga storia dietro a tutto questo grandissimo gruppo editoriale. Su quale si baserà l'Exo Magistralis? Sul tema dell'inchiesta, del grande giornalismo d'inchiesta, l'Espresso ha compiuto l'anno scorso 60 anni e si è affermato come l'icona più immaginifica nel giornalismo italiano. Grandi battaglie, diritti civili, trasformazione del paese, modernizzazione del paese, lotta contro le caste e le camarille, 60 anni fa e ancora oggi. L'Università di Salerno è un campus, lo cui lei ha potuto apprezzarne anche la vista. Quali sono le sensazioni venendo qui a trovarci oggi a Salerno? L'Università di Salerno è una delle eccellenze del mezzogiorno. Normalmente si pensa che il mezzogiorno sia un indistinto di arretratezze e di emergenze. Venendo qui in questo campus si capisce invece della qualità degli insegnanti e degli studenti. Il rischio vero è l'emigrazione. Dobbiamo creare le condizioni perché i nostri studenti, i nostri figli restino qui nel mezzogiorno d'Italia. Dobbiamo creare le condizioni.